A Isernia continua a tenere banco l'accoglienza dei migranti arrivati dalla Tunisia, a chiedere chiarimenti alla Prefettura sulle procedure che hanno portato ad affilarli alla cooperativa Elgeco e un altro centro di accoglienza presente in città, quello del Sayonara. In un primo momento, ha detto l'amministratore Vincenzo Di Giacomo, erano destinati al nostro CAT, ma poi non se n'è fatto più nulla. A metà luglio eravamo stati interessati dalla stessa Prefettura per avere notizie, ci chiedevano notizie sullo stato dei fatti dell'accoglienza presso il nostro centro, perché dovevano arrivare chiedendo i siti dalla Sicilia, però in quarantena, perché stavano con le prove anti-Covid. E dovevano sapere se la struttura permetteva l'isolamento, la tenuta in isolamento di questi ospiti. Noi abbiamo detto praticamente che su tre piani del centro due erano vuote e quindi non c'erano problemi per mettere tutti i richiedenti asili in un unico piano, su più piani, secondo la loro richiesta. Questo era andato dai fatti, era venuta la polizia, i funzionari della questura, a fare un sopralluogo e questo era fino al 20-25 luglio e all'improvviso il 31 vengo a sapere dalla stampa che erano arrivate questi richiedenti asili presso il Giego. Per ottenere chiarimenti sul mancato trasferimento dei migranti, il CAT del Sayonara si è affidato allo studio legale Cutone. Nella nota indirizzata al prefetto Vincenzo Callea, l'avvocato Sandro Cutone fa tra l'altro riferimento a una graduatoria che vedrebbe la struttura gestita da Di Giacomo davanti alla cooperativa delle sorelle Ferri. Noi con il Giego non siamo né in guerra né in competizione, anzi abbiamo sempre collaborato ad oggi, siamo ancora prima in graduatoria per quanto riguarda l'assegnazione, perché la gara in essere è ancora quella che risale nel 2017 e in quella gara il consorso che io rappresento è stato prima in graduatoria e quindi presumo che prima di arrivare alla seconda, al terzo, al quarto è giusto che venga interpellata la prima. Questi sono successi fatti, non c'è nessuna voglia di riparsa, nessuna voglia di incriminazione, vogliamo soltanto sapere il perché.